questa volta faccio io inizio io e concludo io ma che cazzo dice ma che emozione quale mozio quattro minuti di recupero 30 secondi per la sostituzione quattro e trenta struts quest'anno sembra tutto dovuto dovuto cosa stia spingendo la macchina a 200 all'ora a me non me ne frega neanche se mi ammazzano perché la coscienza ce l'ho a posto cazzo lavoro 24 ore al giorno fatela finita cazzo musen seien jesic vill samstag disse spieler musen seige mich c'è sempre un però e sei primo è però e sei secondo è però e c'è il migliore attacco è però e sei terzo è però è sempre una critica continua e qui quando si perde non gioca mai quello che dovrebbe giocare troppo facile signori e ridono e ridono cosa ridete cosa vi divertite a scrivere cosa dopo cosa ridete che cosa ridete questo è il bar dello sport